Isochinetic è centro di eccellenza per il recupero degli atleti. Sì, per il recupero degli atleti la nostra esperienza è molto sull'attività sportiva di tutti i livelli, però in realtà non solo atleti, anche persone normali, persone che si dedicano all'attività fisica, che vogliono scegliere attraverso l'attività fisica di raggiungere la migliore condizione di salute e di forma. Visto il lungo lockdown, riprendere un'attività fisica, che rischi comporta ma soprattutto che prevenzione si può fare? Questa è una domanda molto azzecchata perché in effetti l'esperienza di questi ultimi tempi dopo il lockdown è proprio quella di dover gestire molte situazioni di sovraccarico o di esercizi fatti in modo autogestito che possono comportare qualche problema e quindi il controllo, seguire la gradualità anche nel carico e la ripresa anche dell'attività proprio sul campo è una delle nostre attività principali. Partendo dalla Green Room che ti permette sia di recuperare ma soprattutto di prevenire. Vero, la Green Room è nata proprio per la prevenzione soprattutto delle lesioni del ginocchio ma poi si è sviluppata anche per altri distretti anatomici e viene utilizzata sia per la fase viabilitativa dopo un infortunio ma molto per la prevenzione dell'infortunio. Siamo molto orgogliosi di questo accordo di collaborazione con un'eccellenza bolognese nel mondo una società internazionale che svolge un lavoro di recupero degli atleti quindi pensiamo di poter fornire un servizio molto importante per i nostri soci, i nostri atleti che competono a vari livelli sia a livello direttantistico che semiprofessionistico quindi siamo veramente orgogliosi di poter dare questo servizio alla società e di avere iniziato questo rapporto di collaborazione, speriamo duraturo. Tre anni di convenzione per Isochinetica e Virtus Tennis, un modo per crescere insieme per vivere insieme l'avventura dello sport. Esatto, io personalmente sono molto contenta di questa unione che c'è stata anche perché sarò il riferimento per tutti i soci del circolo e per le loro famiglie è una convenzione che prevede chiaramente delle agevolazioni economiche ma non solo, una possibilità di accendere in tempi molto rapidi, in Isochinetica per avere una diagnosi in tempi veloci. Questo riguarderà sia gli agonisti che i soci e le loro famiglie? Esattamente, è una convenzione allargata, Isochinetica come Virtus è molto vicina anche alle famiglie per cui verrà esteso a tutti, dal nonno ai bambini, per cui crediamo molto nel valore della famiglia e dello sport. Parte una nuova convenzione, Virtus Tennis Isochinetica, un momento di aggregazione dedicato sia ai soci che alle famiglie. Ma assolutamente, per noi questo è un evento molto importante perché sicuramente mette insieme due realtà che si dedicano allo sport, alla salute, allo star bene e quindi sicuramente Isochinetica da una parte per quanto riguarda tutto quello che è la prevenzione, il ritorno allo sport e il connubio con Virtus che attraverso il tennis, il paddle e tutte le attività connesse crea sicuramente qualcosa di importante per la comunità, insomma. Quindi questa è una cosa molto molto bella. Siete abitati a lavorare sul territorio con le realtà sportive? Assolutamente, per noi è molto importante arrivare a ogni singolo atleta perché per noi lo sport, la salute, la prevenzione e il recupero dell'atleta è un elemento veramente importante perché solo se facciamo sport in modo continuativo e con la gioia di poterlo fare sicuramente ne trova aggiornamento anche il fisico e la mente. Quindi per noi è molto importante questo. Grazie.